Ciao sono Noemi e ora vi dirò il meteo di sabato 23 febbraio. Sabato ci sarà qualche piccola schiarita ma sarà prevalentemente nuvoloso. Le temperature minime saranno meno 1, le massime 3 gradi. Auguro a tutti una buona giornata, questo era il mio meteo e saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono.